Ancora abuso di alcol e di droghe durante la guida. Nonostante i continui controlli, nell'ultimo fine settimana sono state 10 le patenti ritirate dai carabinieri del comando provinciale di Verbagna. Sono complessivamente 7 le persone denunciate nel corso della scorsa settimana e soprattutto del weekend. Un'automobilista residente fuori provincia è stato denunciato a piede libero perché sottoposto a perquisizione dell'auto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri, quasi 5 grammi di hashish e quasi 8 di cocaina. Alla richiesta dei militari di sottoporsi al test antidroga si è rifiutato, incorrendo così anche nel ritiro della patente di guida nella segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Due automobilisti sono stati invece denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi al test con etilometro. Si tratta di un uomo classe 1974 che era quasi arrivato a casa quando ha provocato un incidente che fortunatamente non ha coinvolto altre persone. Ai carabinieri intervenuti è apparso subito chiaro lo stato di ebrezza del conducente che però ha rifiutato di sottoporsi al test rimediando una denuncia e il ritiro della patente.